la farei ripartire la possiamo cantare quanto vogliamo ma non la farei ripartire perché sennò youtube decide che è copyright giusto stupido youtube io e youtube siamo grandi nemici da un po' di tempo a questa parte allora si va in live per scoprire analizzando i mazzi i mazzi i mazzi nel primo commento bisogna ogni volta ripetere d'alta voce quello che si scrive perché altrimenti buon necro pomeriggio e si oggi farò la live con questo chupa chupa in bocca perché ho deciso così sperando che sia quantomeno comprensibile ciò che dico se non dovesse esserlo lascio parlare te io sto zitto tanto siamo sinceri chi dei due è quello che fa i contenuti interessanti in questo momento sei decisamente tu l'uomo con la pipa direi il pippone il pippone è un altro pippone il pippone è un altro maledetto il maledetto perché non si fa mai sentire crudele cattivo pippone vergogna mi ricordo quando c'è stato quando era dopo il covid che ci siamo sentiti per fare le coccatriciate mi ricorda dei pippone quando la vita era più semplice la vita è semplice siamo noi che la complichiamo noi siamo bravi io sono esperto di autosabotaggio sono bravissimo in questo allora youtube l'ho fatto ho messo pure il link instagram e telegram no questo no questo si ok con il feed a posto ciao finito comunque lo imparfettiamo solo per farti un dispetto perché giochi competitivo ho montato cazzo ora si chiama aspetta yarus credo commander yarus vediamo non mi ricordo i nomi delle carte che gioco chi è il brulco il brulco che fa sì yarus l'urgito degli antichi dei l'urgito quello di morph quello di mkm fighissimo che alla faccia vol secondo me è un gran mazzo adesso devo farmi dare da un socio un'ultima carta e poi è pronto per farvi il culo sono i mazzi più belli quelli che riescono a fare il culo alla gente lo degli ultimi un cardice l'ore giustamente che è un grande fan degli antichi dei dei grul detto ciò scrivo col cellulare su telegram io non ho il link per telegram del gruppo forse è meglio per tutti che sia così peccato te lo devo passare in privato volentierissimo insieme ad altri link meno di cui è meglio non parlare al grande pubblico ok scriviamo solo live cominciata io tra l'altro sto qui a perdere tempo a fare il mio introduttivo ma verso le 5 guarda che tu tanto alle 5 e mezza devi andare in effetti forse le 5 e mezza ci avranno dai diciamo verso le 5 e 20 ci salutiamo leggermente prima così tutti e due andiamo a fare le nostre cose allora lecca lecca in bocca a parte e pipe in bocca a parte oggi siamo qui per parlare di doctor who ora se io riesco a ritrovare pure le liste dei commander sono più contento forse lo trovate che uno dice ma vai nella cronologia si ho due settimane che non ci vediamo quindi ah tra l'altro mi sono visto un po' degli episodi di cui abbiamo parlato quelli con non mi ricordo più che dottore però con il con Ross Tyler insomma quindi anche l'episodio della baia e quello del timey why bello quello carino esatto devo dire che veramente sono ben fatti davvero interessanti sì sì cioè col fatto che tu mi hai raccontato le cose mi cioè non mi hai spoderato ovviamente però è più bello perché contestualizzi meglio certe scelte narrative anche molto più carina qualcosa quindi ti ringrazio ancora ma vediamo se riesco a presentare qui io non mi ricordo dove cavolo fossimo arrivati l'ultima volta onestamente avevamo iniziato il mazzo paradox saltellando da alcune carte per cui che io non ho guardato perché non volevo spoilerarmene io stesso a qualcosa che invece si poteva guardare mi sa che abbiamo visto avevi raccontato la storia di River Song giusto questo volevo dire bravo bravo ragazzo bravo dobbiamo tornare indietro dobbiamo tornare nel mazzo nel mazzo Jeskai allora ci vado scusa blast from the past perché mi ha saltato una carta qual era? era gully free stance ah allora aspetta che la troviamo subito command blast from the past bravo che me l'hai detto bravo che non me l'hai detto bravo l'ho pensato però incantesimo incantesimo eccolo qua eccolo qua eccolo qua e adesso poi la luce di tutto quello che ci siano detti questo è la fine dell'episodio dove il dottore salva Gallifrey dove i dottori salvano Gallifrey che è l'episodio che mi hai detto che lo salvano dalla guerra salva Gallifrey del tempo si 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 del tempo ok e quindi questo poi hanno fatto questo incantesimo che è impossibile che è impossibile beh si effettivamente se controlli 13 o più dottori vinci la partita eh oddio in qualche modo magari con un token generator voglio provare voglio provare a vincerci una volta con questo mazzo però io poi che sono malato nel cervello quando l'ho visto quando ho visto uscire i mazzi ho detto ma non c'è un comandante però in tutti e quattro i mazzi in tutti e tre perché nei quattro nell'altro mazzo non c'è un dottore che ti permette di usarla per vincere cioè non c'è un dottore un compagno che hanno i quattro colori dell'ink trader eh no infatti è vero i compagni hanno tutti un colore solo mi sembra non ne hanno più di uno a parte la oswald ma la oswald ti fa scegliere un colore niente la sua identità e allora dicevo ma come mai what the fuck al che eh la wizard che ne sa una più da diavolo ha fatto uscire poi dopo nel secret layer il quattordicesimo dottore che effettivamente ha da solo i colori tutti meno il nero quindi quindi dopo ti fai le tue porcate però carina questa o anche i mazzini anti cangianti giangianti anche sì cioè in qualche modo magari cioè appunto non è non è competitiva quindi che schifo tu fai schifo esatto tu fai schifo esattamente faccio schifo baby e no però al di là degli scherzi al di là delle cazzate è una bella carta ovviamente cioè è una di quelle carte che ti diverti a costruirci in mazzo intorno e a cercare di farla funzionare per vincere la partita nel modo più strano possibile sempre divertente quindi questo era quello che ci mancava da blast from the past da quello jessky non avevamo mancato niente mi pare vero avevamo stato dato solo queste infatti mi ricordo la sera che sono andato a letto dopo la diretta ci sono tirato su e ho detto no non abbiamo avuto la carta il contadino la locanda non ho pagato il conto la locanda ok quindi poi Pompei e tutto quanto mi pare che avessimo visto di qua solamente il flame interno non so se me lo ricordo abbiamo visto un po' di creature leggendari abbiamo saltato quelle leggendarie mi sembra sì avevamo visto River Song contato River Song l'abbiamo vista Clara Oswald mi sa di no però sei sicuro no l'avevamo accennata ma questa è la prima volta che vediamo la carta ah ok io direi ripartire no perché abbiamo saltato qualcuno sicuramente il 13 dottore l'abbiamo visto Nardol l'abbiamo visto aveva saltato la Madame Bastra e la Jenny Flint e anche il scusa un gruel Strax si Strax se l'avevamo saltati anche il allora Madame Bastra ok ah sì perché eravamo arrivati effettivamente a River Song sì siamo andati abbastanza siamo andati abbastanza in ordine bravo che ti ricordi le cose mentre io non mi ricordo un cazzo no per esempio però il cucciolo lunare l'avevamo visto che era l'unaracchio visto che la prece di Marte avevano detto qualcosina proprio ma perché non c'era niente da dire sì vero mi ricordo anche dopo ci pensiamo allora ricominciamo da Madame Bastra a questo punto che cerco Scryful perché è sempre più comodina è una ettiliana tipo sì bellissima sì sì oddio mi sembra di ricordare non so se era Doctor Who o un altro show fantascientifico c'erano effettivamente tipo una razza di antichi alieni che erano dei delle lucertole che abitavano non so se mi sto confondendo con il film di Mario sotto terra bravo scavando uscivano fuori ma non erano cattivi erano tipo una civiltà e basta c'è una puntata di un dicesimo dottore molto simile a questa magari non so se ti riferisci a quello ma è la puntata in cui vediamo mi ricordo il nome della carta che abbiamo visto Rory Williams che subisce una ferita però la frattura lo salva e finisce così l'episodio però il dottore incontra questa razza che magari ha già incontrato però a livello narrativo la serie non ce lo dice Madame Bastra si viene presentata come un'amica del dottore insieme all'altra a sua moglie Jenny Flint e Astrax forse perché la prima volta che li vediamo forse sono nel film con l'ottavo dottore anche se non ci metterai la mano sul fuoco però loro manifestano di essere dei grandi amici del dottore lei è un'aliena palesemente ma abita anche lì noi avevamo visto il dinosaurio il tirannosauro l'altra volta per lo che andava a fuoco in mezzo a Londra Madame Bastra è una investigatrice privata che collabora con Scott Lanyard in età vittoriana e quando c'è qualcosa di strano Scott Lanyard chiama lei che va in giro velata eccetera non si fa un po' riconoscere e risolve dei misteri un po' strani ed è una spazzina ammirevole assolutamente anche un artista ma vediamo che parla con l'undicesimo dottore e è presente insieme a Flint e a Jenny Flint e a Strax quando Clara Oswald entra nella timeline del dottore per salvarlo perché il nemico di turno che non viene citato ma insieme si chiama l'entità cioè cerca di interrompere la timeline del dottore o di minarla di conseguenza i suoi amici non si ricordano di essere amici del dottore non si ricordano del loro rapporto che hanno e quindi Strax che è un frontaran che vedremo è molto bellicoso quindi attacca Madame Bastra per ucciderla sostanzialmente ma poi alla fine Clara Oswald salva la situazione e ritornano tutti amici come prima ma figo figo sono sempre complicata scusa un pezzetto sono sulla nave perché il dottore l'undicesimo dottore chiama a raccolta tutti i suoi amici per salvare Amy Pond quando viene rapita dal silenzio e da come si chiama l'altra un'altra un'altra madama non mi viene il nome c'è in un altro sasso ma non mi viene il nome c'è in un artefatto quando Amy Pond viene catturata con l'episodio della carne che avevamo raccontato eccetera il dottore chiama raccolta tutti River Song Madame Bastra Flint e Strax e dell'episodio in cui River Song avverte sempre tutti quando un uomo buono va in guerra anche i diavoli tremano e Madame Bastra insiste comunque che il dottore non si debba lasciare troppo andare perché rischia di diventare un'arma con le gambe però River Song comunque tiene allerta anche gli altri perché è la prima volta che River Song recluta il dottore per una missione sul pianeta degli angeli piangenti dice ai soldati i soldati le dicono dottoressa Song lei ci aveva promesso un esercito no io vi ho portato un uomo che vale un esercito e questo uomo è appunto il dottore un dicesimo dottore si c'è tra un esercito e un solo dottore io preferirei tutta la vita un solo dottore honestamente visto che persona è però capisco che possa esserci se sei un militare potresti avere dei problemi con l'idea di mettere tutto in mano a una sola persona e per il resto vabbè fa danno ha niente il fatto che metta clue e food l'immagino sia semplicemente perché serve per il mazzo c'è allora il clue perché è un'investigatrice penso il food si serve al mazzo ma neanche tanto del gusto di fare qualcos'altro per dare il gusto del food esatto c'è sempre gustoso poi jenny flint che è il partner appunto di madame vastra jenny flint passa per coprirsi nella società vittoriana lei è la cameriera di madame vastra ma in realtà sono sposate terribile cosa nell'età vittoriana figuriamoci che vergogna non è un non so carini forti forti come carte first strike training ok è il suo concetto ecco il mentore quando sacrifici un clue of food mette ah ok è carino non capisco perché blu rosso metta i segnalini più uno più uno però vabbè c'è poco di blu questa carta siamo nel dottore qui il dottore può fare tutto il dottore si può fare quello che si fa e poi c'è strax che è l'infermiera strax è un maschio un ah si si vede no ma sono taran e sono fatti tutti così sono taran molto bellicosa amano la guerra da morire da morire per il custo della guerra non perché vogliono il potere loro vogliono combattere strax è un è un son taran che il dottore sconfigge uno dei tanti che sconfigge però come punizione siccome lui ama la guerra particolarmente il dottore cosa lo obbliga a fare l'infermiera lui fa è un infermiera un bombo gli dicono perché dice tu che hai sempre combattuto adesso con trapasso dovrai curare tutti e lui fa questo lavora insieme a madambastra l'aiuta aiuta il dottore a curare le persone però è sempre comunque ha sempre questo spirito bellicoso dentro di sé beh da un certo punto di vista curare una persona è una sorta di guerra se vogliamo di una battaglia contro però lui proprio vive in Sontaran sempre la proprio la gloria dell'impero Sontaran devo portare gloria combattendo devo meno alle mani prima meno poi guardarlo giustamente è grull e i Sontaran ci dicono poi in un episodio lui non ha la sua armatura ma la vediamo nel mazzo Grixis hanno un unico punto debole della loro armatura che è qua dietro dietro alla nuca alla base del collo e il dottore sostanzialmente ma perché il dottore è un pazzo ne sconfinge uno ne atterra uno con una pallina da tennis sostanzialmente in balza dietro al Sontaran facendolo cadere cascare quindi non si rialzano più giustamente sono un po' tipo sono fatti in maniera particolare va detto non so quanto riescono a tenersi in equilibrio e poi è un chierico parliamone è un chierico perché guarisce le persone cioè in quanto infermiere o è un chierico anche prima no 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 se i fanati possono essere definiti chierici magari dipende se lo fa se sei uno che venera una persona tendenzialmente un qualche oddio si se veneri la guerra se diffondi la parola del portare la gloria e la guerra e quando fa danno a una creatura gli metti un più uno più uno beh non è male quando sai finora ti hai fatto o scegli un giocatore e fa ok un po' carrandom pur di venare le mani poi il dodicesimo dottore avremmo partito dal tredicesimo il dodicesimo e qua tosta tosta questa qua tosta perché ha una chitarra in mano tosta complicato complicato perché non so è un dottore questo qui è uno se non il più il mio preferito è uno dei miei preferiti questo perché poveraccio raccoglie eredità di dottori precedenti prima di tutto molto amati è più anziano rispetto agli altri dottori rispetto al nono al decimo all'undicesimo dottore e lui fino adesso è sempre andato in giro con companion giovani cioè quindi non con delle sventole però con companion giovani e quindi c'è comunque anche un gap generazionale non da poco se comunque si può parlare di gap generazionale con uno come il dottore beh sì un essere multimillonario siamo sempre lì a guardare l'aspetto delle persone o degli alieni perché ci interessa anche quello ricordiamolo la rigenerazione dell'undicesimo dottore avviene grazie ai signori del tempo che per salvare l'undicesimo dottore gli regalano un altro ciclo di generazioni da quello che ho capito io quindi potrebbe essere che no però non ci viene detto altro il dodicesimo dottore quando lui si rigenera non si ricorda come si pilota il TARDIS cioè è strano oh no non si ricorda chi è e quando sale sul TARDIS con Clara le chiede se lei sa pilotarlo perché il TARDIS ogni volta che il dottore viene da di matto ma vabbè andiamo di matto e atterra dentro la bocca del tirannosauro che abbiamo visto all'inizio del mazzo ma da un basta lo soccorre bisogna vedere un po' questo dottore cosa ha da dirci non è partito benissimo non è partito benissimo anche perché la nostra Clara Oswald che aveva già salvato l'undicesimo dottore che aveva visto il World Doctor e aveva visto anche il decimo nella puntata di Gallifrey è abituata a un dottore completamente diverso questo dottore quando lui si rigenera dice io ho scelto la forma del mago è un po' un prestigiatore fa un po' il maghetto fa un po' è il mio preferito perché è un po' rompicoglioni come me è un po' cinico è estremamente saccente non come il cesto non è un rompicoglioni come il cesto che guarda gli altri dall'alto al basso questo no però dopo un po' si rende conto si prende la sua memoria assolutamente però all'inizio della sua rigenerazione lui si guarda allo specchio e si chiede perché ho scelto questa faccia perché mi sono rigenerato questa faccia con queste sopracciglia con questi occhi molto profondi penetranti che qua non si vedono questa è una parte che in effetti avevamo già visto ripetiamolo quando il decimo dottore e Donna Noble atterrano con il TARDIS su Pompei su Pompei a Pompei sul mondo di Pompei vengono accolti da questa famiglia di questa famiglia romana altolocata dove c'è la figlia ci sono il padre e la madre la figlia che ha delle visioni e il figlio piccolo mi sembra quando Pompei sta esplodendo Donna Noble che è un ruolo importantissimo sempre nella vita del dottore ma già appena atterrati lei sanno dove sono dove si trovano però Donna dice ma non possiamo evitare questa catastrofe no punto fisso nel tempo non si può evitare quando il vulcano esplode perché esplode a causa di un'entità aliena che risiede nel vulcano che viene risvegliata un'entità elementale non ci interessa Donna Noble si lacrime rotta dal pianto si scioglie il lacrime e chiede al dottore non puoi salvarli e dice no non posso salvarli poi il dottore il decimo dottore fresco di guerra del tempo non vuole fare altri danni però Donna Noble salva qualcuno salva almeno qualcuno e lì il dottore non ce la fa più e salva la famiglia di questi salva questa famiglia che li ha ospitati no raccomandati ma può essere si può anche stare però il fan perché questo discorso perché poi il dodicesimo dottore al volto del padre di questa famiglia cioè l'attore che interpretava il padre di questa famiglia Peter Capaldi è diventato il dodicesimo dottore così come il sesto dottore che interpretava un personaggio in epoca romana ha preso il volto del sesto dottore quando il quinto è andato a trovarlo eccetera eccetera però lì all'epoca dicevi vabbè sti cavoli qui siccome abbiamo dei fan malati beh nel frattempo si era nel 2011 credo anche un po' più tardi anche un po' prima direi io può essere 2007 era il dottore di aspetta il dottore quello del timey whiny no allora prima il sesto dottore sesto dottore ah ok io dicevo il dodicesimo siamo qui sì 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 assolutamente ok ok il sesto dottore era molto prima però siccome non è la prima volta allora il dottore si chiede perché io scelgo certe facce perché io ho scelto questa e poi non è che c'è una sorta di redenzione però c'è questa quasi catarsi dove il dottore dice perché comunque io torno indietro sulle mie cose oppure cioè io ho fatto questa mi hanno aiutato i miei compagni a fare questa scelta io sono tornato indietro a salvare delle persone che in realtà dovevano morire io ho scelto questa faccia per ricordarmi anche questo che io devo proteggere le leggi del tempo assolutamente perché sono un signore del tempo quindi resisto al tempo e bene ho il tempo però perché nella puntata del Titanic il decimo dottore dice io sono le leggi del tempo le leggi del tempo sono mie sì 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 il dodicesimo dottore ha questa peculiarità lui è signore del tempo assolutamente e è il dottore quindi ha dei ruoli ha dei doveri però è anche un uomo è anche una persona quindi in conseguenza deve ricordarsi cosa che farà poi nel suo atto estremo che è bellissimo la rigenerazione del dodicesimo dottore nel tredicesimo è una cosa meravigliosa mi piace molto che si deve ricordare di essere gentile anche perché il dottore è gentile non è spietato cioè è spietato con chi lo fa incazzare assolutamente ma è anche sa che è gentile e quell'atto lì di pietà è un atto di gentilezza perché i suoi compegni gli ricordano anche questo e questa saga del dodicesimo è molto lunga lui è un dottore anche che secondo me è un po' sfigatello perché ora alla base anche di quello che ci siamo detti un po' di scelte alcune si riveleranno giuste lui pensa sempre poi di essere dalla parte della ragione ovviamente come tutti i cinici alcune scelte invece si rivelano essere sbagliate però lui è l'unico dottore che fa una cosa che gli altri dottori non hanno fatto però è ancora presto spoiler 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 e aspetta mi è venuta una domanda me la sono persa no è passata di mente è natale possiamo ripeterlo perché l'avevamo detto lui è il primo dottore è uno dei primi che per adesso è il primo a livello narrativo non so se hai ripassato la lezione quando ti ho mandato i video che incontra River Song è lui che insegna River Song a pilotare il TARDIS ed è lui a dare River Song l'affare degli archeologi come si chiama il coso sonico non c'è un'altra cosa sonica ah ok quindi è il primo dottore che incontra River Song a livello narrativo poi qua qui è in un tratto lo vediamo in una situazione un po' particolare perché si sta nascondendo in questo preciso momento però lui è fuori dalle righe perché è un po' ritornato come il primo c'è una grandissima cultura una grandissima conoscenza però non è che vuole fare il giovane fa anche cose da giovane tipo suonare no la domanda che ho avuto era alla fine magari è spoiler alla fine si capisce perché si è rigenerato con quella faccia o è solo una cioè a livello di ho capito che lui si è rigenerato così perché appunto Capaldi è lo stesso attore va benissimo però l'hanno giustificato a livello narrativo cioè hanno detto lui si domanda è una riflessione sua cioè giustifica il dottore ha fatto questa scelta perché il dottore salva anche delle vite cioè come aveva fatto l'undicesimo dottore con Gallif eccetera il dottore ha sempre salvato delle vite però quelle vite sono su di sé le porta sempre dentro non solo le vite che ha stroncato con la guerra del tempo con i suoi ma anche con quelle che ha salvato le porta le sceglie come se su di sé come faccia lui poi l'abbiamo anche avevamo anche detto la prima volta che lo vediamo è nella puntata dove Gallif vive perché lui aiuta è un altro dottore che aiuta gli altri predecessori a salvare Gallif ma nella nella carta Gallif Falls Nevermore vediamo l'undicesimo dottore parlare con il curatore del museo che nella serie è interpretato da Tom Baker che è l'attore che è interpretato il quarto dottore e in quel dialogo si spiega l'undicesimo dottore lo apostolo dicendogli non mi dimentico mai un volto e il curatore gli risponde è vero tu non lo fai mai però chi lo sa io magari sono stato te tu sei stato me magari il dottore sceglie anche delle facce che gli hanno poi loro ridono perché ovviamente il quarto Tom Baker è stato il quarto dottore l'undicesimo è lì perché è un fan della serie perché ha visto lui da bambino quindi il dottore sceglie facce che poi gli restano e che comunque magari seleziono alcune sono casuali altre gli danno un'impressione piuttosto che un'altra allora io ho dato un'interpretazione mia non c'è una risposta precisa perché a livello narrativo non si sa certo questa faccia dietro le vite che salvo anche ok quindi la tua interpretazione è questa perché semplicemente è per ricordo in un certo senso per dare giustizia sì perché comunque lui è un dottore è vero ha salvato i signori del tempo però si ricorda tutto cioè sa di l'istrata ma ha ancora il suo bagaglio è contento però ha su di sé dei pesi per esempio Donna Noble non si ricorda più di lui sono morte tante persone moriranno e tante altre ne moriranno e Mond è stata la via dagli angeli piangenti quindi per esempio è un dottore pezzo di merda quando si quando si rigenera la prima volta perché nella prima avventura con Clara Oswald e mentre sono un po' alle strette lui dice mi manca Emi e lei gli chiede chi è Emi e lui un po' così nessuno come a dire cosa te lo spiego a fare è un pezzo di merda pezzo di merda perché comunque sente peso ma è andato avanti ho capito è interessante però poi adesso aspetto gli spoiler magari se ne delinea una figura diversa rispetto a quello che ho raccontato perché ho raccontato proprio poco ci sarà modo di raccontarne con altre carte suppongo e poi aspetto mi sono distratto in tutto ciò un altro dottore il fugitive block spoiler dopo il là ok aspetta che cazzo di lecca lecca che porca puttana si è rotta la barretta Midday Immortal oddio mi sa che mi hai mezzo accennato ma non mi ricordo più qualcosina allora dovrebbe esserci in questo mazzo credo anche il piano del princese dove i vichinghi qualcosa di vichingo ingo aspetta che adesso condivido la scheda qui e poi vedo sì ma possiamo vederlo anche dopo e comunque non è importante intanto volevo vedere già di mio poi torniamo sulla carta aspetta adesso le trovo adesso le trovo ah besaged viking village sì sì ok ok quindi è una vichinga immagino sostanzialmente sì dodicesimo dottore allora c'è sempre questa 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 insistenza sul sulle famose ship tra i compagni o nei dottori che nella serie classica sono per questioni anagrafiche per questioni che non ci interessa lui sta viaggiando con Clara Oswald Clara Oswald però ha il fidanzato che abbiamo saltato forse l'altra volta ma ci dobbiamo tornare perché è importantissimo che ritorneremo che è Danny Pink ah ok e c'è sempre questo giochino cioè era palese che la Clara Oswald si fosse innamorata dell'undicesimo dottore palese palese quando si è rigenerata in questo vecchio di merda lei dice adesso vabbè però alla fine lei diventa secondo me è più affiatata con lui che con con l'undicesimo dottore con l'undicesimo perché in questa non l'ho detto lo diciamo dopo non l'ho detto lo diciamo dopo lo diciamo dopo stanno viaggiano nella storia ogni tanto incontrano anche Robin Hood e lei stravede per Robin Hood giovane bellissimo rampante mentre lui è sempre vecchio no vabbè vecchio marziano chiamiamolo vecchio perché non è vecchio però ha un aspetto diverso dagli eroi una giovane professoressa di inglese in una scuola media superiore facciamo media chiamiamola così ammirano però lei ha questo fidanzato che però non sa bene con chi lei riesca perché lei c'è poco ad affare va a comprare le sigarette torno subito poi effettivamente torno subito però con il Tardis è stata via magari degli anni e poi magari torna con un souvenir vichingo una stalla che non devi smettere di guardare cose del genere robetta un pezzo di dare che è giurante arrivano in questo villaggio vichingo che viene assaltato dall'ennesimo nemico alieno i vichinghi stanno per fanno per morire stanno per essere falciati questa ragazza poi vorrebbe lottare perché una donna è orfana di madre però vorrebbe aiutare il padre vorrebbe diventare una guerrira ma non si può i vichinghi sono alle strette perché fanno per morire se non siamo alla vigilia della battaglia ed è bellissima questa scena purtroppo io sono innamorato dalle puntate del dodicesimo dottore lo ammetto sono di parte a un certo punto il dottore però è uno è spietato anche quando Amy Pond aveva l'angelo piangente nell'occhio e River Song prova ad aiutarla a darle un po' di conforto dai dai vedrai che te la cavi il dottore dice stai per morire no ma perché d'altronde come puoi fare e Clara e il dottore non sanno come aiutare questi vichinghi perché anche lì non c'è il Tardis non è che può essere usato come arma di distruzione ancora e poi il dottore dice Clara non possiamo fare niente stanno per morire e allora la compagnia ancora un po' lo tira fuori e dice ma scusa ma tu stai qua che non gli aiuti non fai niente eccetera anche perché il dottore ha paura di farsi prendere la mano e allora in questo momento qua quello che ha sentito questa faccia lui sente il pianto di un bambino e ricordiamolo il dottore parla la lingua dei bambini e ci dice cosa dice questo bambino questo bambino proprio in fasce neonato dice mamma ho paura stringimi a te perché ho paura di morire sento che arriva la tempesta eccetera e allora il dottore che è un cazzone perché poi si stringe il cuore e poi dice vabbè facciamo qualcosa allora riescono a mettere insieme un po' di legna un po' di cose spaventano questi alieni ma la nostra ragazza si sacrifica per far vincere questo il suo villaggio e muore muore però il dottore cosa fa fa una scelta le inserisce con che forma di tecnologia gallifreiana non è neanche gallifreiano questa è una tecnologia del dottore le inserisce questa sorta di chip questa scheda che non solo la riporta in vita ma la rende immortale cioè la bambina non invecchia penso che possa morire forse nel senso che se subisce una ferita se le tagliano la testa può morire però non invecchia ed è immortale e quindi le dà questo regalo però cosa succede il tempo passa e la rincontreranno e lei ha vissuto di tutto ha vissuto di tutto ha vissuto dei parti è sopravvissuta i suoi figli è sopravvissuta la peste ha visto i suoi figli morire di peste e quindi diventa un po' una ladra che cerca di campare in base a quello che ha biasima la scelta del dottore sì ogni tanto sì però si dà un po' la macchia e il dottore dice non ti ho salvato però per fare la ladra e dottore però tu hai fatto una scelta io devo campare perché non mi hai dato altro e tiene questi diari infiniti di tutto quello che fa e poi la vediamo in un altro contesto però spoiler la vediamo un'altra un'ultima volta però spoiler spoilerissima ok allora a questo punto torniamo su Danny Pink quando ci arriviamo anche a Clara Oswald e non è ah vabbè possiamo guardarla anche per io la guarderei per ultimo come carta Danny Pink perché è connesso a una carta del mazzo Greek ok Crossfeller Fish me l'avevi parlato eh niente di niente di Luna Latching me l'avevi parlato ah Clara Oswald a questo punto sì perché gli altri ne avevamo parlato pure degli altri livello di carta è la companion più strana quella che costa di più ed è anche una delle più forti no la seconda sono abitato ah beh minchia è tipo risonatore esterionico per i dottori per gli altri sì panarmonico per i dottori eh sì infatti no di tutto sì panarmonico eccetera sì lei è la ragazza impossibile perché l'undicesimo dottore quando la vede dice tu non puoi come fai a essere qua what the fuck perché lei è entrata nella timeline del dottore e lo ha salvato ricordiamolo per gli amici a casa ma anche per me stesso soprattutto per la mia memoria pessima anche no no ma per la mia anche noi la vediamo la prima volta che sta facendo la tata in una casa facendo la nanny la classica nanny inglese e chiama un numero di telefono scusa stavo andando in buffering ma mi succede ogni tanto chiama un numero di telefono a questo numero di telefono risponde l'undicesimo dottore vestito da frate perché è in retio spirituale non si sa il perché e il dottore non è scontento però ci rimane perché sono solo due nell'universo che hanno il numero del TARDIS una la conosciamo già una non lo sappiamo ancora una è River Song River Song ha il numero del TARDIS mentre risponde dice che tu chi sei una donna dell'assistenza telefonica mi ha detto di chiamare qua perché non va al wifi e il dottore dice va beh andiamo a cercare questa ragazza che mi ha chiamato che ha il mio numero e alla fine incontra Clara Oswald hanno la loro mini avventura dove ci c'è qui sono questi questa organizzazione che risucchia le persone dentro gli schermi e quindi si serve di loro per alimentare delle cose dei serve ma cazzate varie è una puntata pilota per introdurre questa companion e il dottore dice tu come fai a essere qua perché lui l'aveva già vista in età vittoriana insieme a Madame Buster insieme a Strax insieme a Jenny Flint perché lei è sempre entrata nella timeline del dottore quindi il dottore ha qualche ricordo ha qualche paragonza quando lei entra la vediamo ok ma che è straforzato che sembra invitare mentre il primo dottore sceglie qualità di sprendere lei sembra dire scegli questo che è il migliore ma questo what the fuck cioè non ha senso questa roba qui però questo è un giudizio mio però che le ragazze è un po' perché non tu come fa ad essere sempre nella memoria del dottore e poi esserci qua ma non si sa lei è un orfana tutti orfani tutti orfani companion ma anche questo è una visione dei companion viaggiano col dottore per evitare i loro problemi dai c'era aspetta la bionda Ross Tyler che lei c'ha la madre lei aveva la mamma che ride è un padre dell'altro diverso hai visto che questa mi fa sempre ridere lo racconto sempre alla mia fidanzata quando il nono dottore allora il nono dottore entra in casa di Ross Tyler per tenere un po' sugli spettatori la mamma lo vede e gli fa ah c'è un uomo in camera mia e io solo l'accappatoio può succedere di tutto e gli fa no grazie no poi si rigenera portano il corpo del decimo dottore a svegliarsi dopo la rigenerazione in casa di Ross con la madre la madre che è un personaggio simpaticissimo da ridere l'hanno costruito benissimo sarà che il dottore un viaggiatore del tempo sa tutto però dice sempre stare attento con mia figlia guai a te eccetera eccetera la classica madre che è apprensiva per la figlia giustamente però anche molto comica e come mai non si sveglia come mai non si sveglia che eh mamma si è appena rigenerato è il dottore non so se lo ricordi sì sì me lo ricordo ma non è che gli è venuto un infarto no mamma perché ha due cuori se è un signore del tempo ha due cuori eccetera eccetera e guarda il dottore va nel letto e fa ah e oltre a due cuori anche qualcos'altro però la mandano di essere è una roba da ridere no anche qualcos'altro di doppio e tutto questo per dire cosa? e che era perché abbiamo detto che Clara Oswald è orfana come quasi tutti i companion ecco ecco però Rossella c'era la mamma ecco 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 Clara viaggia viaggia con il dottore viaggia un po' con l'undicesimo è presente a Trenzelor quando quando il dottore muore quando la storia del dottore finisce aiuta i signori del tempo intercede per lui per rigenerarlo è presente durante la caduta di Gallifrey quindi assiste anche a questo momento comincia a lavorare un po' per la unit fa tante cose fa tante cose questa ragazza è impossibile lo aiuta lo aiuta tanto aiuta tantissimo quando ecco questo volevo dire quando l'undicesimo dottore si rigenera nel dodicesimo Clara riceve un'altra telefonata questa telefonata viene dal passato lei risponde e l'undicesimo dottore dal passato le sta parlando e le dice Clara io non ci sono più davanti a te c'è un uomo che ha una faccia diversa ma è un uomo che ha estremamente paura e tu hai paura di lui lui ha paura di te ma tu devi guidarlo devi stargli vicino perché lei è palesemente fissata con l'undicesimo ma adesso c'è bisogno di lei anche con il dodicesimo e poi lei pian pianino un po' all'inizio c'è questo un po' tira e mola è un po' diffidente eccetera però lui poi le chiede andiamo a fare un giro col Tardis e si lascia andare a questa cosa anche qui c'è la scena lui le porta il caffè io ho portato il caffè e ci l'ho chiesto due mesi fa però si è arrivato adesso anche qui si gioca molto su questa cosa qui però sempre sul tezzo il dottore poi lei insegna tantissime cose al dottore sto pensando troppo spoiler troppo spoiler vivono tantissime avventure lei è il dodicesimo dottore proviamo ad andare avanti perché con Danny Pink è un po' presto un po' presto poi se non ci sono domande rispondo volentieri che cosa? ci sono delle domande rispondo volentieri no in realtà no non me ne sono venute in mente aspetto che mi racconti tu le cose poi abbiamo i Raxa che avevamo detto bene o male che i Piazza di Cittimano come non te li aspetti esattamente e poi il Memory Worm non mi ricordo se non avevamo parlato no allora non so se sei presente quell'episodio di Ricche Morti di quando se lo guardi sei presente quello della della rapina ah ok sì ecco tu stess nel senso che il dottore recluta dei personaggi secondari che non ci tangono per fare questa rapina del piccolo solo che tu il dottore questi personaggi si svegliano in una stanza c'è questo prestigiatore che li ha che li ha drogati li ha messi tutti insieme bisogna fare il colpo ragazzi bisogna fare il colpo quando avete fatto il colpo potete andare devono rubare da questa banca non so che cosa non so che soldi indifferente questa banca però ha questo guardiano questo alieno con gli occhi fuori tutto incatenato che ti legge nella mente quando sa che sei quando sa come minority report se hai delle cattive intenzioni ti spappola il cervello fanno questo colpo riescono a farcela alla fine si scopre che era stato il dottore a reclutare tutti però si erano trovati questo verme della memoria attaccato alle tempie per dimenticarsi di tutto perché se no quello là avrebbe scoperto in tutto graus ho capito molto dimir come cosa ed è rosso giusto tu fai schifo l'avrei fatto io l'avrei fatto blu innestamente però non mi ricordo cosa fatta rispetto a quello che ti ho detto io sì però nel caso mi guarderò l'episodio pure lì poi abbiamo ti l'aveva saltata spoiler ah ok spoiler spoiler e quindi abbiamo finito le creature poi torneremo su un coso tu hai saputo not time mi pare che me l'avessi detto che era tipo uno speciale di natale è in un altro mazzo l'avevamo visto in un altro mazzo che è quello past from the blast ah ok l'avevamo saltato l'avevamo saltato ah ok l'avevamo saltato sì ma si può vedere a questo punto si può vedere ok mostriamolo che cosa rappresenta a parte il fatto di vabbè se controli due o più dottori fai un altro turno e poi lo esili e cerca vabbè poi tutori per per i dottori certo quindi suppongo che siano due dottori che si incrociano esatto allora tu poi con le tue abilità storiche mi devi aiutare perché io ho la memoria veramente ballerina c'era due volte chi è che c'era due volte al punto di vista narrativo non erano ancora uscite tutte le puntate che abbiamo adesso ovviamente c'era due volte chi il dodicesimo dottore l'ultimo e il primo si incontrano ah ok si incontrano sono tutti e due spaventati tutti e due per lo stesso motivo si stanno per rigenerare hanno paura perché si stanno per rigenerare allora il secondo dottore è la prima volta che si rigenera ma ha paura perché sta per morire perché è anziano e ha paura di quello che può succedere mentre il dodicesimo anche lui si sta per rigenerare le cause le spiegheremo più avanti e si incontrano allora questa puntata è molto divertente da una parte da un'altra parte mi ha fatto estremamente incazzare perché è ambientata in un periodo storico in un periodo storico in cui credito durante la seconda cvera mondiale ci sono c'è un esercito che nell'occasione della festività natalizia interrompe le ci sono due eserciti che interrompono le ostidità durante la festa di Natale allora loro salvano questo soldato no aspetta era la prima era la prima guerra mondiale perché fanno anche il giochino lo fanno salire sul Tardis e ad alta voce dicono ok 25 aprile della 1917 prima guerra mondiale il soldato li guarda come prima prima spoiler 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 no non ti preoccupare ci rivediamo tra 30 tra 20 anni al che si incontrano poi si porta questo soldato il dodicesimo dottore sta viaggiando con un'altra companion in questo periodo che è Bill Potts e Nandol mi ha fatto incazzare perché perché i due parlano discutono di come sono andate le cose viene fatto uno spoilerone della morte al primo dottore perché il primo dottore ha paura non solo della rigenerazione se gli viene detto che lui diventerà un dottore della guerra di tante cose non gli viene spiegato tutto però per quello gli viene ancora perché dice io cosa sto per diventare e poi quello che mi ha fatto incazzare estremamente è che si gioca moltissimo sul fatto che sono due dottori è più anziano il primo ma anche il dodicesimo non è è poco più giovane è un po' più giovane allora quando il primo dottore lo guarda dice io diventerò te sì il primo ci pensa e dice speravo di diventare un po' più giovane più giovane io sono più giovane va bene però giocano tanto su come il dodicesimo dottore sia un po' più sul pezzo rispetto al primo cosa vuol dire certo che avendo vissuto di più hai più esperienza ma il primo viene dipinto come uno estremamente bigotto estremamente sista ed estremamente deficiente quando non può essere così perché il primo dottore è estremamente colto e poi è un alieno un viaggiatore del tempo non può essere bigotto perché per esempio a un certo punto Bill Potter fa notare come il TARDIS del primo dottore sia un po' impolverato e vabbè di queste cose si occupava Polly la mia compagno come dire che la donna pulisce e lui no certo che magari non è che sto dicendo queste cose qui non vanno dette in televisione eccetera ma è impossibile che il primo dottore dice è impossibile la compagno che ti prendi a bordo solo per pulire mi sembra molto poco dottore viene da Gallifrey sono troppo avanzati questi per dire queste puttanate oppure magari dai spezzo una lancia a favore magari non è che intendeva quello magari intendeva dire che no perché io sono sempre distratto con le cose mie invece c'è la mia compagno che è sempre sul pezzo e lei non mi ha detto tanto purtroppo su questa cosa qua cioè io ripeto ognuno deve fare con i suoi contenuti quello che gli pare assolutamente però non deve fare però deve fare delle cose di senso perché per esempio con Bill Potter Bill Potter anche lei è un personaggio omosessuale marginata assolutamente però nella sua nella sua stagione insiste tanto su questo concetto purtroppo troppo cioè abbiamo capito è marginata va bene è omosessuale va bene giusto ma basta però dopo un po' non 100 episodi su sta roba poi mi fai vedere uno dei personaggi più iconici con un altro attore senza sistema lo fai passare per un testa di cazzo dai perché mi fai la testa di cazzo quella lì ma poi io sono matto quindi pazienza poi anche lì però adesso mi è incuriosito perché voglio vedere con i miei occhi che cosa dice tutti i dialoghi poi incontrano anche un Dalek incontrano uno dei Dalek ribelli che aveva aiutato il dottore che aveva aiutato il dodesimo dottore a far fuori tutti i Dalek perché in un altro episodio perché verso la fine poi per esempio un'altra frase che dice per esempio il dodesimo il primo dottore vede la chitarra elettrica e dice questa cos'è e quello là la nasconde come dire no niente come se non facciamo vedere al nonno la chitarra elettrica ma l'avrà vista di sicuro una chitarra elettrica che cazzo viaggia nel tempo nel passato nel futuro in tutte le prossimità alternative l'avrà vista questa persona chitarra elettrica poi non so se suonare i frisi suoni però come dire guarda io stesso mi vergogno che mi sono messo a suonare una cosa che non avevi mai suonato prima potrebbe anche essere questo si può anche servire poi per esempio nella serie in quel periodo il dottore è un professore il dodicesimo dottore lavora come professore universitario nella facoltà di Bilpoz e Bilpoz a un certo punto dice una sega di parolacce a profusione al che il primo dottore apre la porta del Tadis perché l'ha sentita da dentro e dice se ti sento ancora di usare quel fosaio lì ti sculaccio con le mie mani lei poi guarda il dodicesimo e dice mi hai appena detto che mi sculacci sul di dietro e fa no no non va bene troppo troppo ricogliolito troppo un po' troppo finisce con tutte e due che si si rigenerano con calma nella loro intimità e basta dopo averne discusso comunque dopo averne discusso il sedere di Bilpoz ma non sono sicuro che sia quella la puntata no si 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 perché forse in realtà perché diventa troppo un casino però rovino le puntate poi se Bilpoz non era veramente lì in quel momento però fa niente fa niente troppo complicato vabbè c'era c'era una proto Bilpoz poi si è tutto e passa anche la voglia poi siamo sempre in Doctor Who quindi quello che è in realtà potrebbe anche non è e il dottore può fare questo ok il dottore fa il cazzo che vuole mettiamola così quantum misalignment invece spoiler si allora aspetta che vado avanti into the time vortex dentro il vortex con queste arte qui a caso anche qui si possono viaggio del tardis il tardis viaggio è la carta della sigla ed è anche sbagliata ed è anche abbastanza forte eh si c'ha cascata e rebound effettivamente si giustamente l'hanno fatta rara perché se no avrebbe potuto provocare oddio forse rara beh comunque si ti dà la possibilità di fare cascata quindi questa è la notte impending flux vediamolo un attimo qui ah super spoiler super spoiler super spoiler noi da guerra che distruggono tutto se fanno la guerra è il tredicesimo dottore diciamo tredicesimo dottore è super spoiler insomma poi last night together l'ultima notte insieme ah oh dolciotti ah ma c'è il river song attenzione quindi questo non è spoiler questo me lo devi raccontare adesso abbiamo già raccontato eh abbiamo già raccontato ricordami un attimo allora perché mi ricordo noi vi abbiamo detto più o meno che facciamo perdere i discorsi di fisica quantistica che io non ho i titoli river song abbiamo detto che vive al contrario il dodicesimo dottore nello speciale di natale è su questa nave incontra river song lui la riconosce ma lei no e quando lo vede lui l'apostrofa con il suo saluto ciao dolcezza lei capisce che quello lì è il dottore e dice ti serve una lampada ti serve un parrucchiere perché lui è anziano è più anziano di quando poi non sappiamo lei quanto l'abbia visto prima lei sa di essere la moglie del dottore lo sa ma dice il dottore non si cura di me in questo periodo allora lui poi la salva e la porta a fare questo viaggio di notte chiamiamolo così questa vacanza su berillium berillium desti cazzi rum e passano una notte insieme solo che questa notte dura 24 anni e quindi stanno insieme lei lui le fa il regalo del lo scalpello sonico chiamiamolo così quello degli archeologhi degli archeologi e poi sentono queste torri che hanno il vento passando in mezzo a queste torri sembra quasi che canti no e River Song poi quando parla con il dottore ma un dottore futuro cioè o il nono o scusa o il decimo l'undicesimo dice le torri cantavano e tu stavi piangendo perché eravamo insieme ok ma perché l'ultima notte perché poi muore River Song poi lei andando avanti con la sua timeline il dottore non la riconosce non la riconoscerà più ah è certo perché lei effettivamente è vero è vero lei non ha ripassato tu fai schifo mi dico mi dolgo adesso mi fustigo poi lei lei fa perché poi si capisce anche perché lei continua a dire spoiler spoiler perché a un certo punto lei fa una domanda al dottore come mai siamo finiti qua e come mai siamo finiti qua perché per come e lui le risponde spoiler non te lo posso dire perché è stato tutto il casino prima mamma effettivamente River Song è molto bello come storia hai visto il video di lei che legge la sua timeline no lo devo vedere cazzo mi sto diventando ecco perché che faccio schifo esatto aspetta trovo uno ecco adesso comincio a fustigarmi con questo troppo comodo troppo comodo devo essere punito maggiormente allora aspetta che in tutto ciò mi stavo guardando lui le insegna a pilotare il TARDIS basta tutto qua che comunque è tutto qua nel senso ti ho solo insegnato a pilotare una cosa che sarebbe l'universo l'arma più evidente dell'universo comunque il piano si chiama Daryllium ho trovato adesso sì perché c'è anche la carta da Pecceis sì le torri canore di Daryllium eccole benissimo le torri che cantano giustamente c'ha Fortel giustamente oi fermi tutti Wither hai fatto una cosa di senso ma sì incredibile non sembrano neanche loro devo dire che no questi mazzi del Doctor Who li sto apprezzando molto avrei voluto lo stesso la stessa la stessa precisione e cura anche per le leggendarie di Thunder Junction bella storia quella che hanno fatto il Thunder Junction molto bella poi l'epilogo con Joseph Ruska però a livello delle carte leggendarie buttate lì a cazzo di cane ma dammelo due con due brighe di contesto porca puttana perché c'è il Marchese perché così non mi piace quella Thunder Junction non mi è piaciuta per niente poi io li odio i cowboy quindi non faccio molto testo ma guarda anche a me faceva abbastanza schifo all'inizio poi a livello di le meccaniche mi sembrano carine poi vabbè a livello di di lore per l'appunto i cowboy c'entrano fino alla certa ci sono cose più molto più lore di magic che molto poco cowboy però si capiscono ti è piaciuto tutto per adesso esattamente è quello che penso tanto aiuta tantissimo ma dann basta è un'altra detective anche lei quindi sono se sono detective quindi sono di Ravnica perché Mardus a carlo è quello che mi è piaciuto last night did you get a start the TARDIS beh si spiega da sola c'è il tredicesimo dottore accendiamo il TARDIS effetti non è che ci voglia un gel accendiamo il TARDIS e via è sempre uguale comunque l'interno del TARDIS questa è una cosa che si poi questo poi si può anche vedere il display l'interno del TARDIS cambia a seconda del dottore è sempre diverso ah carina sta cosa e poi che fa surveille 2 surveille 2 poi peschi una carta poi viaggia a ben svolcherare ah e c'ha già un start no stupendo voi no no dal cimitero sì sì però una volta sì scartando una carta e poi pagando il suo costo di mana ok ok truth or consequences bellissima bellissima quella puntata e aspetta che questo non so perché questa merda di scryfall mi ha dato tutto tranne quella giusta bellissima meravigliosa questa puntata da vedere a casa tutti tutti da vedere questo è il è l'artefatto che distrugge tutto che usa il word doctor giusto no come no è uguale no l'abbiamo visto in un'altra carta abbiamo visto nella carta di osgood questa carta qua questo è il cubo qua il cubo nella osgood osgood ah ok sì allora è la cosa ah ok adesso ce l'ho preso l'ho visto forse avevo detto anche l'altra volta che era lo stesso cubo no 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 beh può essere ma in realtà no siamo con gli zygon qui ripetiamo gli zygon non li abbiamo ancora visti ma non sono così fanno due apparizioni più o meno gli zygon hanno la capacità di assumere le sembianze di chi vogliono però questo chi vogliono deve essere inglobato in questi bacioelli e ne condividono un po' i pensieri le conoscenze e l'aspetto fisico soprattutto gli zygon sono già stati sconfitti sulla terra della unit e convivono con gli esseri umani in mezzo agli esseri umani la prima zygon di turno è osgood la osgood è si è unita a uno zygon non si capisce c'è un zygon non si sa se è un umano ce ne sono due chi è l'umano chi è lo zygon il dottore per tutelare questa pace tra zygon e umani ha creato queste scatole senza dire però quale delle due fa cosa una uccide gli umani e un'altra termina gli zygon gli zygon alcuni zygon ribelli vogliono il potere sono stufi di essere di convivere con gli umani e vogliono prendere il controllo di questa scatola quindi organizzano una battaglia della morte sulla terra prendono le sembianze dei parenti dei soldati della unit fanno dei disastri fanno in quel ah qui adesso si vede benissimo quando c'è un'emergenza c'è scritto neosubianco firmato dai capi della unit il dottore in casa di emergenza viene eletto presidente della terra perché è lui che è una situazione pericolosa come questa il presidente della terra ha l'aereo presidenziale c'ha tutto lui e che mi si fa fatica si fa fatica a trovarlo il dottore quello è il punto quello è il problema ma per trovarlo ci sai chi lo conosce ma questo non ci interessa alla fine siamo nella solita situazione di stallo gli zygon prendono la scatola gli umani una delle due manine quella sul blu è quella di Kate Stewart mi sembra la figlia del brigadiere lo scienziato cazzo la unit chi è che spreme il bottone chi è più veloce siamo tutti clara oswald è in ostaggio con gli zygon ah no ecco un cazzo clara oswald originale è ostaggio di due zygon l'altra manina è dello zygon che ha preso le sembianze di clara oswald quindi la clara si guarda la scatola rossa davanti a sé davanti a lei c'è anche la Kate Stewart che ha la scatola blu non sanno quale delle due stermine agli zygon e quale gli umani non lo sanno perché per esempio il dottore il dodicesimo dottore è lì con loro che se li guarda è stanzito no il dodicesimo dottore fa uno dei monologhi più belli di tutta la storia dell'intrattenimento perché non solo non è un classico monologo contro la guerra è un grosso rimprovero perché lui all'inizio prova a convincere la zygon a tornare indietro a tornare sui suoi passi perché la Kate Stewart assolutamente la Kate Stewart interverrebbe solo se in caso di di offensiva ma la zygon vuole è stufa allora io poi non parte che non lo so ma è a memoria ma poi non sono un attore il dottore dice questo voi cosa farete quando avrete vinto visto che gli zygon devono vincere perché dopo arriverà qualcun altro e quegli altri vinceranno e poi e poi vincerà qualcun altro cioè la guerra risponda sempre ma se avete vincito in eterno sarà sempre è convinto di riuscire a convincerla ma lei dice io non torno indietro dottore tu cosa ne sai della guerra al che il dottore non ci vede più cioè non ci vede più perché cosa dici ma tu perché tu questa la chiami guerra e poi e e gli dice tu poi si rivolge a lei che ha la faccia di Clara no tu cara tu la guerra non l'hai mai vista cioè io ho un'idea delle guerre che ho combattuto io dalla gente che ho sterminato io e quelle persone che ho sterminato continuano a urlarmi nella testa io non ti auguro di essere come me è quello che il dottore ha scelto con la faccia per ricordarci anche quello le persone che sono morte al che la Kate anche se lo Zygon ha ancora la mano sulla scatola toglie la mano la Stewart non vuole premere il bottone lo Zygon non lo preme neanche non mi ricordo benissimo devo dirsi perché questo monologo qua che c'è su YouTube secondo me la convince non la preme neanche lo Zygon sì sì non lo preme neanche lo Zygon però poi il dottore spiega quali scatole fanno cosa e secondo lei quale scatola fa cosa? secondo me è all'esatto opposto nel senso quella rossa uccide gli Zygon e quella blu uccide gli umani così lo Zygon avrebbe ucciso per nel cercare di uccidere tutti gli umani avrebbe in realtà sterminato la sua specie e lo stesso gli umani io avrei detto così quella meme che ho messo sul gruppo quella così aspetta non la vado a ricercare altri contenuti e dai aspetta l'avevi messa commento non mi ricordo più aspetta era il meme il sommo davanti alla lord di dottor sei pronto a fare la stessa cosa o è meglio di no? cosa? sei pronto a fare la stessa cosa o è meglio di no? vai quale scatola fa cosa? t'ho detto secondo me rossa il dottore spiega la verità viene azzerato tutti i ricordi la Kate Stewart non si ricorda quale scatola fa cosa lo Zygon non si ricorda cosa fa cosa perché nessuna scatola fa niente era la mia seconda risposta era la mia seconda risposta non faccio così solo perché c'era arrivata dentro di me e sapevo che era era la seconda risposta eh chiaramente River Song dice sempre questo agli amici del dottore ricordatevi che il dottore mente io mi sento di dire questo ricordatevi che il dottore trolla no ma in realtà lì più lì mentre l'ho detto ci ho anche pensato cioè il dottore che ti dà una scatola per distruggere qualcuno avrebbe distrutto le scatole piuttosto non ti avrebbe neanche posto di fronte alla scelta il commento che mi hai detto riferito al che sembra il momento questa scatola qua sembra l'artefatto che abbiamo visto è vero è vero assolutamente vero è vero quindi la somiglianza è voluta beh certo è vero perché comunque allo stesso modo o stermini Dalek o lasci che stermini premi il bottone e stermini Dalek oppure non premi il bottone e lasci che i signori del tempo dell'intero mondo che figa poi la devo devo ancora recuperarla anche solo il monologo su youtube secondo me bellissimo questa persona bellissimo meraviglia attualissimo purtroppo è bellissimo eh sì infatti quello purtroppo sì ah ecco l'inversione degli zygon suppongo sia cioè su prime gli zygon sono comunque in ogni unità dopo averne utilizzato è una puntata di due parti di due se non tre parti forse allora non è lei non è lei però dalla trama sembra lui come si ferma la guerra e cosa può fare il dottore per salvare i suoi amici forse amici amici ma ti rubano gli amici esatto ma ti rubano la bici la bici è quello che era secondo me comunque si è la stagione stagione 9 episodio 8 ah aspetta no giustamente bravo un bel applauso a me stesso la stagione 9 episodio 8 non avevo visto che è dopo l'episodio 7 quindi sono 7 e 8 l'inversione dell'invasione di zygon ah perché il 7 è l'invasione l'8 è l'inversione chi è lo stronzo che ha dato questi titoli che dici? no no niente niente la scheda dice che per quegli episodi occorre essere analfabeti beh purtroppo un po' di analfabetismo me lo porto dietro non guasta mai noi studiosi di storia ce l'abbiamo queste cose Wreck and Rebuild comunque la vedo assolutamente questa su Prime ma la devo vedere ah infatti dicevo sembra un po' Thunder Junction infatti dicevo non capisco non sto il capello come prego ah queste sono le torri del sempre lì sempre quell'episodio sempre quello e questo posto cos'è quindi scusa? è il locale l'hotel il teatro non ha un episodio intero questa quella puntata lì su a meno che non sia tornato a meno che non sia uno spoiler tredicesimo potrebbe essere potrebbe potrebbe essere tornato chissà però ricordo ricordare molto strano però niente che i fan volevano un incontro anche velato tra il tredicesimo dottore e River Song ma non c'è stato quindi non mi risulta non so niente anche perché siamo sinceri vabbè che River Song è un personaggione e tutto quanto da come me l'hai descritto però la sua storia finisce col dodicesimo cioè non ha senso che mo la porti avanti pure col tredicesimo quattordicesimo quindicesimo e così via per fare contenti fan a meno che non metti una River Song del futuro che allora torna indietro però complicheresti ancora di più le cose sono sempre alla porta sì con il dottor W è un attimo però mi sembrerebbe veramente una mossa molto stupida marketing e basta giusto per fare contenti fan vabbè certo come funziona l'intrattenimento oggi da tonde beh sì quello è vero però magari questi sono inglesi io l'intrattenimento inglese ho un po' più di rispetto forse rispetto all'intrattenimento americano lo rispetto assolutamente di più perché l'intrattenimento americano è quello che è poi ponder ponder un vecchio ponder che è questa signorina qui sta toccando una bestia acquatica l'acqua sta toccando l'acqua è la primissima puntata dove vediamo Bill Potts che segue questa ragazza questa ragazza non è una stalker però la segue a sua volta si inseguono e questa ragazza è un'entità lì una marina che assume la forma america non la rivede per un bel po' la rivede nel suo estremo momento quando Bill Potts muore ha una morte tremenda Bill Potts ma la vedremo a tempo debito e questa entità la fa diventare a sua volta di acqua per salvarla ah no no ovviamente hanno questo contentino perché Bill Potts ha una morte orribile orribile che a noi sembra quando la vedremo mi dirai invece tremenda la morte di Bill Potts preordain continuiamo ah spoiler vabbè giusto per vedere che cazzo di faccia c'ha più o meno la mia faccia quando l'altra volta mi è con l'impatto del neve esatto vabbè intente qualcosa non faremo spoiler una signorina che ha delle visioni del tredicesimo dottore paresemente chissà perché chissà com'è quello lo scopriremo solo vivendo ho sbagliato questa mi sa che ce la sbrolliamo subito truth of chaos ehi cosa vedi dalla finestra del tardis questo questo è quello che vedi dalla finestra del tardis bello in realtà è il suo fascino dai è uguale a prima solo che lo fai da 4 eh infatti esatto è la stessa cosa però da 4 c'è la differenza che questo lo devi ricastare tante volte mentre quell'altro era una volta basta cultivate cultivate qua maeb do you like the forest being in trafalgar square i think it's lovely beh oddio penso che gli abitanti di trafalgar square avrebbero da ridire che in mezzo alla piazza spunta una foresta magari non sei proprio così contento qualche idea su questa cosa su tutto il pianeta le piante stracrescono crescono di brutto non si sa perché non si sa perché Clara Oswald insieme a Danny Pink è in gita ovviamente con le loro classiche ovviamente quando si va in gita c'è sempre casino questa bambina che sta questa maeb che sta è in terapia ha una sorella che è scappata di casa e che non è tornata sente delle voci sente le voci allora le danno delle medicine per farla sta buona a un certo punto lei si allontana dal gruppo e ovviamente in mezzo a questa foresta cosa trova trova il Tardis bussa e dice tu sei il dottore ma lei è convinta di che sia il dottore il medico il suo psicologo tu sei il dottore ah ok tu sei il dottore nel senso il dodicesimo dottore la guarda e le fa sì hai un appuntamento e la tiene lui perché poi la vadano a cercare la trovano il dottore si incazza come una bestia quando le danno le medicine perché dice voi con le vostre medicine voi umani i bambini li dovete ascoltare perché hanno sempre da dire se fanno qualcosa di strano questa bambina parla con delle piccole entità luminose che le vediamo qua un pochino queste entità luminose sono parlano con il dottore gli dicono dottore non così non come te lo sto dicendo io però gli dicono dottore abbassa la cresta perché noi eravamo qua prima che arrivassi tu e saremo qua quando tu non ci sarai più orta miseria che proteggono la terra cioè è prevista un'esplosione solare che qualcun altro sta guardando ricordiamoci di questo qualcun altro perché è la stessa persona che sta sempre lì a guardare tutti controlla sempre tutto in questo periodo ricordiamoselo perché no io me lo dimentico è prevista un'esplosione solare che distrugga la terra però adesso per momenti per motivi chimici che io ignoro al momento queste piante producendo tantissimo ossigeno è come se formasse uno scudo che salva la terra queste entità aumentano la crescita in modo tale che la terra si salvi e la bambina aveva saputo questa cosa con anticipo quando le piante poi se ne vanno la bambina ritrova la sorella che ritorna a casa basta è una sorta di favola dai si dice bene molto carina molto carina perché è vero poi ci diciamo che il dottore è considerato il dottore è come se fosse un dio è vero questo sotto certi punti di vista però ci sono creature che sono più antiche di lui e beh certo c'è sempre qualcuno e chissà se c'è qualcuno più antico di loro addirittura chissà non lo sapremo mai esatto beh finché non lo decidono gli sceneggiatori insomma search for tomorrow vediamo dottore eccolo qui ok sono molto confuso io decisamente ma spoiler spoiler ok comunque spoiler quindi andiamo avanti far seek vabbè far seek dove andiamo companion punto di domanda ah ok giustamente andiamo tutti di qua andiamo dove ci porto a tardi dove dico io e beh sì vediamoci anche gli incantesimi tanto sono ancora le 5 meno 4 meno 10 penso in mezz'oretta ce li vediamo penso nel caso comunque vediamo become the pilot diventare il pilota e pilotare in teoria il tardis mi viene in mente ma questo non è esattamente il tardis è una pozzanghera esatto quindi spoiler ah ok spoiler ho deciso che quando non so cosa dire dico spoiler ops ah ok forse non dovevo dirlo ad alta voce oh no adesso spoiler no no sono sicuro che è uno spoiler ok ok return the past oh no questo è il dodicesimo però questo non dovrebbe essere così spoiler no sei tornato sei in nella mia testa tutte le mie memorie sono tornate oh sì sì ragazzo allora a parte che questo incantesimo è rotto da morire sì da refresh perché tutto costantemente è forte allora così come l'undicesimo dottore rivede Amelia Pond da bambina e anche da adulta perché quella è la prima faccia che ha visto la sua faccia anche il dodicesimo dottore prima di rigenerarsi è in mezzo al campo di battaglia rivede rivede la sua companion la prima companion che l'ha visto rivede Clara Oswald che che non c'è è lontana troppo lontana da lui allora dice tu sei però mi va adesso mi ricordo tutti è complicato complicato ragazzo e l'eglio gli dice ciao stupido vecchio ciao stupido vecchio e questo è la rigenerazione e poi si rigenera e diventa il tredicesimo dottore tutte le mie mani sono tornate ma perché in qualche modo si era dimenticato di lei a un certo di Clara no le cose importanti sono tornate ah vabbè era per dire poi The Flux il flusso spoiler immagino sempre tanto per Heaven Sent no ha aperto la scheda sto pensando a quei ricordi di all'incantesimo rosso no non sto pensando a quella di quell'incantesimo rosso bravo porca miseria perché poveri no va bene va bene si può stare ci sta ci sta va bene va bene basta basta fatto va bene ok ogni tanto ho bisogno del parere di un esperto allora parlo da solo eh giustamente chi è più esperto di te stesso dobbiamo fare un salto abbiamo fatto una carta di un play chase ah ok che non ovviamente non mi ricordo il nome per quello che non ti do altre indicazioni non è un evento è un non è un piano non è un piano è un fenomeno quindi bravo so di fenomeni ma di questo mazzo dovrebbe essere in questo mazzo il fenomeno del corvo ah ok sì fixed point in time punto fisso nel nel tempo punto fissato ecco sì siamo in un'avventura easy entro in questo borgo di londra nascosto dove ci sono nascosto perché dentro ci sono degli alieni che abitano che vivono questo ragazzo ha fatto c'è un ragazzo che il dottore ha già incontrato in un'altra ventunissima Clara che ha qui quando i sceneggiatori dicono oh ragazzi bisogna andare avanti veloci perché non hanno altre idee ok sì fanno riscutare senza senso hai fatto questo questo patto bisogna rispettarlo allora questo ragazzo poi riceve questo marchio questo tatuaggio della forma di corvo per cui se il debito non viene saldato il ragazzo muore però è trasferibile questo questo tatuaggio e la Clara Oswald ovviamente salva il ragazzo ma immediatamente inizio episodio dice lo prendo io lo faccio io tanto il dottore sistemerà tutto sistemerà tutto ecco non sistemo un cazzo al che al che a causa anche di me l'immortale a causa anche di me Clara Oswald muore per questa cosa oh no e il dottore non avrebbe il dottore è impazzato nero perché è nero allora non è importante tanto il come ma diciamo che il dottore entra in una sorta di prigione viene messo in questa prigione e questa prigione dopo che Clara muore perché è alle strette non ha non c'è un nemico però viene messo alle strette da questa da questo da questo evento questa prigione c'è nel mazzo è un artefatto di questo mazzo mi chiede che cosa è un artefatto a tre aspetta che lo cerco è brutta sto raccontando brutte queste qua però bisogna vederle non è inutile che le racconti io aspetta c'è confession dial eh sì 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 ok aspetta che ho sbagliato chiaramente ok ora è giusto questo qui è qualcuno che ha teso questa trappola al dottore col pendolo dove lui è più debole e il dottore entra in questo disco di confessione questo disco confessione questo disco confessione è una prigione sostanzialmente quello che succede dentro il disco confessione oddio non mi vorrei confondere però aveva pazienza tanto se c'è qualcuno che ha da dire mi correggerà quello che succede dentro questo disco confessione è connesso a quello che succede nella saga che vedevamo prima che è heaven sent esatto questa è una prigione il dodicesimo dottore entrato in questa trappola deve affrontare questo labirinto allora è incazzato nero e dice chiunque ci sia dall'altra parte sappia che non vincerà e avrà la mia vendetta tremenda il dottore si accorge di essere intanto cerco quel disco confessione valordo in questa trappola il dottore si muove seguito da questo spettro e ogni tanto lo segue ogni tanto lo tampina se e risuccede perché succede se questo spettro tocca il dottore il dottore muore muore instantaneamente lo spettro tocca il dottore il dottore muore e si risveglia nello stesso punto in cui si è svegliato all'inizio del labirinto tutto questo all'infinito allora comincia a ripetere ripete sempre tutto ripete le cose che ha fatto sia cose che tende a fare gli stessi passi a fare le stesse pause a fare le stesse cose infatti la saga tende ad andare all'infinito sostanzialmente ma alla fine sembra che arrivi verso l'uscita questa uscita ha come una parete davanti alla porta d'uscita una parete fatta di vetro di cristallo chiamiamola così e il dottore vede che ci sono dei segni come dei graffi o come delle botte delle percosse finché non arriva lo spettro che lo tocca lo riporta al punto di partenza il dottore rifà il viaggio e vede che c'è una percossa in più lo spettro lo tocca Amo indietro ritorna davanti alla parete altro percorso in più è lui stesso è se stesso che lui era lui che faceva tutte queste tutte queste botte alla parete cose poi che lui deve essere lì da una vita la prima volta che si entra magari era già dentro da prima perché vede che c'è sempre della cenere da dove riparte perché lui viene incenerito dallo spettro e si e ritorna se stesso quando poi alla fine arriva l'uscita aspetta che adesso sto guardando eh scusa quando arriva l'uscita allora vieni traspostando dopo aver sedito la morte di Clara ok 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 ecco no vedi vedi allora no questa è una cosa completamente diversa però sono connessi lui quando è in questa prigione esce però lei che ha studiato lui entra in questo labirinto che è molto piccolo quindi ci sono delle dimensioni che sono relative ci sono dei degli spazi che sono spazi diversi dalle nostre quindi questa qui è tecnologia di che tipo domanda alla classe quantica no è tecnologia di Gallifrey quantica ok quando esce qual è la sua origine ok sì allora si è roba più piccola roba più grande dei spazi diversi quando lui esce si ritrova su Gallifrey e lì trova il suo disco di confessione che lui era stato sottratto precedentemente ma questo disco di confessione sostanzialmente aspetta perché porca mi dica poi io quando perché ma è che così importante bene bene se no perdiamo troppo tempo non è il disco confessione contiene il testamento del dottore ok anche lui è un elemento dei signori del tempo ma quando i Gallifreyani e il presidente di Gallifrey lo accolgono che sono incastrati nell'universo e sono stati salvati nell'universo tasca il dottore confessa di essere lui l'ibrido che distruggerà i signori del tempo lui è l'ibrido che conquisterà Gallifrey e regnerà su quello che ne rimane per quello che lui è anche così odiato perché lui è destinato ad avere e lui è un ibrido non si sa bene ancora come tra che cosa è quello che non siamo sicuri che i suoi genitori siano entrambi signori del tempo magari uno è umano per quello che è sempre sulla terra lui è destinato a spodestare scalzare gli attuali padroni di Gallifrey e l'accoglienza non è delle più rose perché il presidente minaccia il presidente è lui che gli ha teso questa trappola ma ordina un'esecuzione capitale immediata ma i soldati si rifiutano perché lui è un eroe un eroe di guerra assolutamente quindi i soldati si rifiutano bello tutto ho capito che sarò il distruttore il conquistatore però cazzo intanto vi ho salvato il culo senza di me non stavate qui quindi complicato complicato poi la politica è complicata la politica dei Gallifrey e quindi poi come finisce i soldati si rifiutano lo lasciano andare però dice che lui riesce ad entrare nei magazzini dei magazzini chiamiamoli i magazzini che non ero parola orenda nei sotterranei nelle catacombe di Gallifrey ruba un altro TARDIS con quel TARDIS impedisce la morte di Clara Oswald la fa salire sul TARDIS quindi interrompe un altro punto fisso nel tempo e la piazza la piazza sostanzialmente a vagare in eterno in tutto l'universo insieme a me in quel TARDIS e lui prende il suo beh tra l'altro May è immortale però Clara Oswald in teoria non è immortale no però il dottore non vuole che muoia in quella maniera lì proviamo un po' troverà magari il TARDIS la porterà sulla terra e staranno contenti chissà mi rendo conto che io ho dei grossi limiti nel raccontare questa serie e nello spiegare bene le cose da una parte perché ho delle grosse carenze perché non mi ricordo tutto quindi sono limiti assolutamente miei dall'altra perché ha troppe cose cioè la ciccia e il jugo me le ricordo però i dettagli anche il disco confessione c'è sti cazzi non è una cosa così nel tredicesimo dottore viene detto un po' questo discorso dell'ibrido ma veniva già detto un po' metà d'Alec metà signore del tempo altre cose viene del maestro in serie successive confessa al dottore dottore gli anziani di Gallifrit hanno mentito io devo distruggere Gallifrit tu perché non sei qua con me tu li difendi brutto sembra che il dottore sia il primo e l'unico di una specie rara di signori del tempo che sanno fare quante cose però le spole che non so bene neanche io quindi non voglio ordinarle agli altri figurarsi a me vabbè a un certo punto hanno deciso di cagare fuori dal vaso però la ciccia ve la sto dicendo dai mi do appena va bene più che sufficiente quantomeno mi stai facendo interessare quindi questo significa che poi mi riguarderò mi guarderò le puntate probabilmente anche perché bene o male adesso che ho aperto Prime ho scoperto la volta scorsa che c'è Doctor Who su Prime quindi adesso ho le puntate davanti con i tuoi consigli con i tuoi racconti riesco ad andare a vedendo appunto la come si chiama la sinossi delle puntate bene o male capisco di cosa si sta parlando quale puntata dovrei approfondire però in realtà è molto figo ti ringrazio ancora per questo tempo passato insieme io direi che anche se mancano allora aspetta mancano being around inside va bene c'è poco da dire carpet of flower vabbè allora a questo punto al volo al volo al volo e poi ti lascio andare poi io vado vediamoci le ultime due saghe per chiudere le tappeto di fiori proprio immagino che tra tappeto di fiori e più grande all'interno c'è poco questa cosa vogliono tutti questa qua è sbagliata sta carta brutta insincente artefatto terra target player raggiunge due mai qualunque colore ah beh è carina vero è chiaruccia ma pure cascata è un gruppo aghe forte divertente puoi decidere tu esatto chi avrà la cascata chi potrà cascare e poi c'è appunto carpet of flowers no non è questa però si ristampe a caso a caso beh che comunque insomma è una ristampo con la realtà a caso però si è una ristampora ma c'ha una lore c'ha un tappeto di un posto così spoiler spoiler ok love is a form of hope and like hope love abides in the face of everything vabbè cioè l'amore del tredicesimo dottore che scopriremo in futuro eventualmente dai mettiamola così e poi vabbè c'erano flux e fuggiti e vandeggio donno che proprio hanno detto sono spoiler ok allora a questo punto abbiamo finito anche gli inchiantesimi e abbiamo cominciato gli artefatti ma in realtà prima ci sono gli istantanei quindi settimana prossima se tutto va bene e se riesco io a in teoria non dovrei avere appuntamenti particolari giovedì prossimo quindi se riusciamo a vederci giovedì prossimo si continua con gli istantanei sempre del mazzo Paradox Power che cosa? si si ci può fare divertente dai sì ho bisogno un attimo di si racchiarmi e che anzi grazie ancora al di là del tuo darti appena sufficiente non sono d'accordo è molto più che sufficiente ti metterei un sette e mezzo oh grazie perché no comunque mi stai facendo appassionare mi stai facendo interessare poi al di là delle cose che io mi dimentico perché sono un essere umano con una mente molto limitata e comunque sono sono sempre belle live che escono fuori quindi sono contento sembra di oddio e poi no niente altre cose prima di salutarci appunto faccio l'ultimo spammino così che ricordo a tutti che in realtà domani probabilmente forse forse è già sabato mattina forse è proprio sabato mattina tra domani e sabato mattina esce il documento di tutti i personaggi di inventando che sono i live che abbiamo che avevo fatto dei personaggi originali alcuni tu li conosci già molto bene in realtà purtroppo per te non sarei dire purtroppo per fortuna non direi più purtroppo perché ti ho rotto i coglioni abbastanza e niente quindi appunto uscirà questo documento sul gruppo sulla pagina che finalmente dopo un mese che l'ho completato conterrà tutte le storie dei 150 personaggi di inventando e niente doveva essere era nato come il premio per chi faceva la sub però ho detto che dopo un mese l'avrei reso pubblico non gliene frega un cazzo a nessuno tranne che a me però va bene così e quindi fate comunque le sub detto ciò io vi saluto tutti quanti e ci vediamo domani con Ravnica per continuare Ravnica Remastered il Mana Verde le carte verdi eccetera eccetera la solita cosa è il venerdì quindi domani 16 e 30 salutiamo bye tutti qua tutto l'unico spettatore l'Oremon sarà bye bye necro salut a tutti e necro pomeriggio a tutti